Non c'è stato e non ci sarà nessun depotenziamento della medicina nucleare ad Arezzo. Ad affermarlo è il direttore generale dell'Asla Toscana Sud-Est Enrico Desideri in risposta all'allarme lanciato dal presidente del Calcit. Un impedimento legislativo non ha permesso di mantenere la medicina nucleare di Arezzo come unità operativa complessa. Nel nuovo riassetto aziendale, infatti, la direzione ha dovuto rispettare il decreto ministeriale numero 70 che prevede una sola unità operativa complessa di medicina nucleare in area vasta. Tra le aziende sanitarie e l'azienda ospedaliera, considerato il livello specialistico dell'attività di cui si parla, la scelta di dove mantenere l'unità complessa è stata obbligata su quest'ultima. Detto questo, precisa desideri, deve essere chiaro che nulla cambia nell'operatività e soprattutto nulla cambia nei servizi erogati ai cittadini. Il reparto di Arezzo resta uno dei punti di riferimento per tutta l'azienda e questo è dimostrato dagli investimenti in corso e già programmati. Infatti, conclude i desideri, oltre 400.000 euro investiti per la realizzazione delle nuove celle e per la realizzazione dei radiofarmaci, la dimostrazione più evidente è data dalla sostituzione della TAC-PET per la quale è già stata avviata una procedura di acquisizione in Estar, dal costo stimato di 1.750.000 euro. Sulla questione è intervenuto anche il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Prendo atto di quanto dichiarato da desideri, ma il declassamento di Arezzo lo vediamo comunque e si concretizza appunto nel passaggio della medicina nucleare da unità operativa complessa a unità semplice. La scelta di Siena dove mantenere l'unità operativa complessa la percepisco come un ennesimo atto a discapito del nostro territorio. Mi auguro che quanto assicurato dallo stesso desideri venga garantito. Una cosa è certa, la PET-TAC acquistata dagli aretini con le donazioni del Calcit non si tocca.